Ah, Giacomino! Ancora qui a deprimerti con i tuoi pensieri malinconici? Gabriele, sembra che tu confonda la profondità con la superficialità. Ma certo, non posso aspettarmi che tu comprenda i piaceri della riflessione. Riflessione? Preferisco affogare nei piaceri della vita, mio caro. La gioia, l'energia, il dinamismo! Non hai mai provato niente del genere? La vita è fatta di gioie effimere, Gabriele, e tu sembri inseguire solo l'illusione della felicità. Io, al contrario, cerco la verità. Bro, la verità è sopravvalutata! Guarda me, vivo a pieno ogni momento, senza pensare troppo. Forse dovremmo cercare un equilibrio, tra la gioia e la riflessione. La saggezza sta nel comprendere entrambe le prospettive. Ma Giacomo, tu scrivevi di noia e abbandono. Come può la tua melanconia avere valore? Gabriele, non c'è un unico percorso giusto. La tua gioia e la mia malinconia sono entrambe parte dell'esperienza.